buongiorno a tutti oggi preparo un blue cake di tonno e ricotta facile e veloce vi mostro come fare mi occorre 200 grammi di farina sale e pepe quanto basta 50 ml di olio 30 ml di latte una bustina di lievito per torte salate 200 grammi di tonno 150 grammi di ricotta 3 uova erba cipollina e prezzemolo quanto basta iniziamo la preparazione in una ciotola metto le uova il sale il pepe l'olio e il latte con una frusta sbatto a questo punto aggiungo la ricotta amalgamata bene la ricotta metto il tonno mescolo aggiungo l'erba cipollina e il prezzemolo tritato prima a questo punto aggiungo la farina e la integro nell'impasto poco alla volta aggiungo il lievito precedentemente setacciato a questo punto lo verso in una forma di 30 x 10 cm una volta sistemato lo vado ad infornare in forno caldo e statico a 170 x 30 minuti una volta cotto lo taglio ed ecco il risultato utile per aperitivo oppure per fare tramezzini grazie della visione alla prossima iscrivetevi al canale condividete mettete mi piace